ariete plutone contrario mette pepe nei rapporti con colleghi e superiori urano nel segno vi dà la forza per operare cambiamenti di lavoro di città battendovi per le cose in cui credete raggiungerete traguardi ambiti e guadagnerete la stima di un superiore toro la luna nella vergine venere marte nei pesci si alleano tra loro per farvi incontrare se siete single la persona che fa per voi datevi da fare la vostra buona disposizione d'animo farà diventare un evento speciale anche i fatti quotidiani gemelli metterete a punto delle strategie per scansare i colleghi di lavoro fannulloni inconcludenti risultato sarete apprezzati per quello che valete non state ad ascoltare chi vi fa perdere tempo e chi vi fa da zavorra nel farlo siate gentili ma decisi cancro la luna mica nel segno della vergine riuscirà a bilanciare l'impeto plutoniano che vi invita solerte a trasgredire lo scopriremo solo vivendo affrontate le questioni finanziarie con le spalle coperte seguendo cioè il consiglio di un esperto leone giove nel segno si oppone al sole ma propizia i viaggi e vi offre l'opportunità di scoprire culture e religioni diverse da quelle che vi appartengono approfittate del momento più che buono anche per investire in modo azzeccato il vostro gruzzolo vergine qualcuno potrà farvi girare la testa con la sua sensualità magnetica ma verificate che sia effettivamente una persona in sintonia con voi convenere contro la luna nel segno potreste prendere un abbaglio siate dunque accorti astuti bilancia avvertirete la smania di cambiamenti ma è meglio attendere con urano contro questo non è il momento non fatevi prendere dall'impazienza fate leva sulla tolleranza e sul self contro frenate gli entusiasmi e fate attenzione colpi di testa scorpione la luna vi fa l'occhiolino nettuno e venere anche voi vi lascerete facilmente prendere dal trasporto dell'audacia creativa buon lavoro con venere plutone favorevoli dovreste cavarvela bene anche nel campo economico buono gli investimenti sagittario mettete i paletti a quei parenti che continuano imperterriti a violare la vostra privacy e fatelo in modo chiaro incontrovertibile lo si sa che un familiare agisce per il vostro bene ma se disconosce le vostre scelte allontanatelo capricorno la luna in vergine prende a braccetto plutone nel segno per dribblare la difficoltà esistenti nel lavoro facendo leva su carisma e competenza riscontrando vecchi amici avrete la possibilità di giustificare il vostro recente sparire dalla circolazione acquario il sole nel segno si oppone a giovani leone invece di sentirvi oppesi per una decisione presa senza essere stati messi al corrente fidatevi un familiare più saggio e con più esperienza si è addossato l'onere di sbrigare un affare antipatico ringraziatelo pesci venere nel segno si oppone alla luna in vergine vi sentirete inquieti e agitati fermatevi non riempite il vuoto che avvertite dentro con la frenesia cercate di vivere questa giornata all'insegna di un ritmo più consono alle vostre vere esigeni grazie 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 grazie